Allora, auto 1, alettone non superato Dobbiamo mettere i vecchi alettoni Dobbiamo purtroppo mettere i vecchi aletoni Il problema è che qui è tutto mancante Cioè qui è tutto mancante davvero? Ma non possiamo scandare direttamente, non possiamo ritirarci per questa stagione Chiedo per un amico eh Perché qui diciamo che sta andando un po' malino Mamma mia Schumacher, che cosa hai combinato? Hai fatto un patatrack proprio Eh, dobbiamo continuare Quanti soldi abbiamo ancora? 3 milioni e 4 Allora, andiamo a weekend di gara a Singapore Saremo forti? Verremo Non credo minimamente con questa macchina Dato che l'abbiamo dovuta depotenziare Controferta bianca bustamante, ancora? Ma sì, dai, mettiamolo così Che bella bianca bustamante Allora, continuiamo Sessioni e prove di bene No, no, posso Flan, non mi interessa, lo dico comunque Allora, importante post in arrivo Preparazione, vabbè Preparazione è molto difficile Mettiamo top 12 con Lawson, che è un parto Mettiamo 15 con Schumacher, che è un altro parto in più Si va in penalità Ahimè Via Usciamo con Hulkenberg Vediamo se le As ci riescono a trascinare sul rito Nuova batteria per il signor Schumi Ce la faranno? Via Vediamo come ci comportiamo in confronto all'As qua davanti Nel giro secco Ma Schumacher ha preso Traffico? 27.0? 27.3? No Pensavo avessi preso traffico, che è passato una kick lentissima Però come se siamo molto più veloci noi? No Chiodi si, ci sta bloccando la As 37.5, 37.5 Eh oddio, si Secondo me ci stava bloccando in questo momento Facciamo Sesto Davanti Hulkenberg Che mi fa pensare che siamo Siamo stati bloccati Dato che siamo vicini a A Schumacher Per ora sesto e settimo Ovvio gli altri devono ancora fare il giro Quindi C'è da vedere Ma ragazzi ma secondo me possiamo andare forti Io voglio rischiare Gomma usata Faremo una cavolata Probabilmente Però boh Mi fido Sincero mi fido Parte il giro di Lawson Vediamo chi si migliora E dietro sono con gomma Nuova Non ci miglioriamo Però Albon non passa Lawson eh Albon non passa Lawson Attenzione forse Schumacher potrebbe essere quello Che viene buttato fuori Ma Albon non ha passato Lawson Si migliora Lawson nel secondo Non si migliora Schumi Schumi a rischio Schumi a rischio Schumi a rischio Lawson passa in una posizione Schumacher Imanelli Sergiant Zucasli Fa solo buttare via Ci salviamo il treno di gomme Ce lo salviamo Siamo stati buttati fuori da Sergiant Non so se avete capito la gravità della cosa Però Però Ricordiamo Schumacher partirà dal fondo Dato che ha Dovuto per forza Mettere una nuova batteria Quindi mi va bene Perché sarebbe partita a prescindere dal fondo Diciamo Madero Lawson si Dietro Lawson si Parte il giro Stanno uccendo gli altri Sperando che non ci diano traffico Tra Lecler, Perez, Norris e Piastri Parte il giro Vediamo cosa combiniamo Vediamo cosa combiniamo ora Bella che co 27-3 Un po' lentino Un po' lentino mi viene da dire Il primo settore Ma ci sta Non abbiamo una macchina molto Performante In questo fine stagione Dobbiamo regolarci molto per il secondo anno Dobbiamo regolarci tanto 37-7 Davanti a Lonzo Dubito fortemente Che ci riusciamo ad andare Solo 1-28-4 Un secondo da stroll Un secondo da stroll È tanto Veramente tanto Mamma mia Sarà tosto ragazzi Passare questo taglio Anche se la pista si è gommata 0-7-10 è difficile Ma ricordiamo che la pista si è migliorata Quindi potrebbe capitare di tutto La fiducia è molto alta Quindi mi piace Mettiamo la helmet camera Sì ma io spero che quelli che stanno uscendo ora Ragazzi non ci diano problemi Pensavo non uscisse nessuno sinceramente No fa passare Fa passare cavolo Facciamo attenzione Dentro Charles Dentro Charles Facciamo attenzione ragazzi Ricciardo sta in sesta posizione Non ci facciamo bloccare Ti prego lo usano Ok ti dovrebbe levare Buono Migliorati 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 buono Si è migliorato 27 e basso 27 e 0 Come nel Q1 Secondo settore ci miglioriamo Quanto è? 37 e 0 Se è elevato all'L3 Le team Bulls Riusciamo con Lawson Riusciamo con Lawson P9 Un secondo e un millesimo dal primo Va bene Se Albon è Oddio Albon che mi butta fuori Sarà È abbastanza difficile Albon non si migliora Sunoda Hamilton ci possono buttare fuori Solo Sunoda Hamilton Hamilton decimo Ok siamo dentro Magnus non ci butterà mai fuori Siamo dentro Buonissimo P9 Usciamo immediatamente di erro Lawson deve essere la sua cavolo di ombra Buono nel primo settore Potremmo guadagnare Madonna mi è già scappato Niente Scherziamo Non te lo dico Oh mio Dio il traffico Riusciamo a fare un 27 Riusciamo a fare un 27 Lawson Dimmi di sì Anche se c'era una marea di traffico 27 e 2 Fucsia Wow Alonso ha perso tantissimo Ma ci può trainare Nel secondo e nel terzo settore Ci può davvero trainare Quindi calma Fucsia Più di velocità di punta Mi sembra che ci siamo Mi ha dato un secondo e due ad Alonso Devo prendere la sua scia Qua ci dà proprio una pista Alonso Riusciremo a migliorare Sicuramente lui si migliorerà Alonso si migliorerà sicuro Nemmeno serve che vedo 27 26 e 9 Buono 20 Per niente abbiamo fatto un 27 e 0 Ma ci siamo migliorati ancora di qualche centesimo Però Alonso non ci sta scappando Potrebbe darci un'ottima scia Potrebbe darci un'ottima scia Non ci sta assolutamente scappando Anzi mi sembra pure che ci stiamo avvicinando Mi sembra che ci stiamo avvicinando Alonso Ci mi vediamo nel secondo e Lawson ha una marea di confident Vediamo quanto facciamo Quinto Ricciardo settimo Ragazzi è un'ottima posizione Sainz quarto ma va bene E Pia se dovesse andare avanti va benissimo Stami lotta con Piazri Ottimo Ottima qualifica non me l'aspettavo questa settima La pioggia moderata Ventunesimo Schumacher Vabbè Gomma intermedia da Pronti a partire In quella pioggia di Singapore Uno Due Tre Quattro Cinque Sui motori per il via Andiamo Andiamo Lawson Aggressivissimo Aggressivissimo Butta fuori tutti Fai come con la Pinto Tra quattro minuti c'è l'ottanta per cento di bagnato E siamo usesti Vediamo cosa riusciamo a combinare Schumacher per ora non riesce ad andare forte Vabbè dai Meno dieci kg di benzina Non è tanto no Ah quant'è ragazzi Dovrei mettere le full wet Guarda Lawson Che traiettoria differente che fa Pista sempre più bagnata Cosa ci dice qua Dettagli tracciato Rimarrà 80% Quindi potrebbe continuare sempre di più a bagnarsi Schumacher ha passato zu Quattro millimetri Possiamo attaccare Piazzi Ho visto Ho visto Davide Ti ha regalato picchia Dentro Lawson Quinta posizione Proviamo a levarci Piazzi da dietro Anche se sarà tosta E Schumi tanto fa un'ottima rimonta Si Schumi ragazzi Andiamo Facciamola andare con calma Dai Singapore ragazzi Può succedere di tutto Ci sta dietro la Mercedes Sta facendo la tappo Piazzi si infila Sta guadagnando Schumi ha passato Serjan Ma Serjan ripassa a Schumi Serjan viene ripassato da Schumacher Io tirerei il più lungo possibile Con le gomme Finché non ci arrivano davvero A livello di Schumacher Certo Schumacher ha avuto Una marea di crollo La gomma cavolo 59% Un secondo di distacco Ah Safety car Box o non box Peres box Zù incidente Vediamo Diamo un'occhiata Guardate quanto è bagnato l'asfalto Comunque lo gufa Oh E finisce sul muro Secondo me Non c'è modo peggiore Per rovinarsi il weekend No pure la carriera Direi Box 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 Go metter me la nuova Box Box Go metter me la nuova Oh no Sosta ai box Non è il problema in box Di mica hanno perso tempo La meccare No Tutti ai box Luso un box Schumacher Box È stata una sosta piuttosto lenta Pure Memento ha un problema in box Ha perso molte posizioni Schumacher Non devono sbagliare i box Mi raccomando Digli qualcosa Digli qualcosa 2-6 Dai va bene Va bene Va bene Siamo davanti alla kick Forse passano un'altra persona Sapete Si sta iniziando però un po' A calare Però dopo riaumenterà Abbiamo la possibilità di ripassare i piastri E finchiamo anche di motore Va Fine safety Forza Lawson Forza Lawson Che vediamo la vittoria Non è vero Forza 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 L'unico di tirato è Zu E ci sono le alpine pinetti Che sono dall'altra parte del mondo Vediamo se riusciamo a tenere il ritmo Però io spingerei Io spingerei con la gomma Che difficoltà Schumacher E comunque una P11 È abbastanza particolare Da parte di Science Non capisco perché una Ferrari È così dietro E non riesce a passare Stroll Facciamo un altro giro Di full push Schumacher Non riesce a passare Schumacher Buono 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 Quinta posizione ancora Vediamo che riusciamo a combinare Dai 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 Detto Nerf E risfermiamo pure Schumacher Non succede per ora nulla in questa gara Coppia Single yellow Copy Ecco il replay Questa è la curva 1 Signale E via di testa a coda Non ha saputo riprendere il controllo dell'auto In prato Ah mic 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 Siete in una bella gara Stai facendo una bella gara La gufata che non succedeva nulla Oh big crash È safety oh Sì è chiaro È chiaro fra Ah no non è esplosato Ma ha detto incidente Incidente tra piatto L'importante è che non sia Il signor Lo usano Oh Con Alunzo No con scroll Oh cazzo Hanno rotto tutto Vedete Safety car Oh non fatemi bucare con l'osone Non fatemi bucare con l'osone Ve prego Sidesguasto meccanico Devo difendere like a lion Però abbiamo più gomma noi Vedete che abbiamo più gomma noi Questa cosa ci può aiutare tantissimo Ecco perché non l'ho voluta toccare Per difendermi da piastri Perché ora Alunzo sta perdendo una marea di tempo Cioè guardate la differenza di gomma Quanto ci si sta facendo sentire in questo momento Giro finale va bene Perez arriva Primo Perez Primo Verstappen secondo Il signor Liam Lawson Conclude in sesta posizione Sesta posizione con un catorcio Con un catorcio Mamma mia Mamma mia P6 Non so come sia possibile La gestione di gomma abbiamo fatta Sarà perfetta Abbiamo avuto una marea di gomma In confronto all'Onzo Che l'ha usata tutta Per provarci a passare Ma ha sbagliato totalmente Piloti ragazzi Prendiamo 8 punti E arriviamo a pari merito Con la Raising Bulls Di Yukitsuno Da buonissimo Poi dietro ci sta Un voto totale Di 40 punti Da George Russell Buono 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 Molto buono Ragazzi Almeno abbiamo preso Mezzo milione di dollari Il problema è che non abbiamo Nulla Ma nulla Di budget cap Cioè abbiamo Stiamo con le pezze Ringraziando Dio Quello sbing che ha fatto Schumacher Non ha distrutto nulla Carla Tania Aumenta la prestazione Non vedevo l'ora Di vederti Carla Grandissima Ragazzi Il prossimo appuntamento Austin Che sarà un circuito Molto 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 Complicato Nel prossimo episodio Signori Per oggi direi che è tutto E va benissimo